All'inizio degli anni 2000 abbiamo iniziato a capire che la raccolta differenziata presentava dei problemi. I grossi eventi, le mense scolastiche, gli ospedali che usavano prodotti monouso in plastica iniziavano a essere un problema per gli impianti di compostaggio perché arrivava rifiuto organico con troppa plastica all'interno. Per cui da lì nasce l'idea di creare prodotti monouso compostabili, cioè che potevano essere smaltiti negli impianti di compostaggio insieme con rifiuto organico e da qui nasce la nostra avventura Ecozema. È nata all'inizio producendo le posate, le posate le facciamo con la nostra tecnologia che è lo stampaggio di iniezione e abbiamo utilizzato il Mater B, abbiamo proposto l'idea Novamont la quale ha con noi condiviso i primi passi, tanto che nel 2005 siamo stati la prima azienda al mondo ad ottenere la certificazione di compostabilità EN13432 sulle nostre posate. Percorsi comuni di ricerca e di sviluppo, loro per quanto riguarda la ricerca di polimeri e noi per quanto riguarda l'innovazione tecnologica ci hanno portati insieme a vincere dei bei traguardi e centrare i bei obiettivi. Nel 2012 abbiamo fornito le Olimpiadi di Londra, siamo stati una delle aziende più importanti per la fornitura di Expo nel 2015 a Milano e non solo. Oggi il prodotto lo vendiamo non solo in Italia ma anche all'estero e in partnership con Novamont. Direi che il binomio Mater B Ecozema oggi si presenta come un binomio vincente.